Cerchiamo di capire un attimino perché il mondo è al contrario. Salutiamo anche Asia, salutiamo anche la nostra Greenettina, Green Apple, Patrizia Perotti, Gina. Allora, cerchiamo di capire un attimino perché il mondo è al contrario, ma vedremo poi anche praticamente quali sono, secondo me, le caratteristiche fondamentali. Ora, volevo partire da un concetto spirituale che oggi, diciamo, si è perso perché viviamo in un mondo dove oggettivamente la spiritualità è in fase di degrado calante e nel sistema delle quattro età, fondamentalmente, che è rappresentato, diciamo, dal Neveda come gli Yuga. Gli Yuga rappresentano, diciamo, le età fondamentalmente dei cicli, no? Perché nella struttura vedica tutto è un ciclo e nel sistema delle quattro età della filosofia vedica il Kali Yuga è l'ultima delle quattro età cicliche. Secondo la tradizione vedica ogni, diciamo, calpa è suddiviso in quattro età e poi riprende un ciclo, diciamo, e poi riprende un altro ciclo fondamentalmente. I quattro cicli o Yuga, secondo la tradizione vedica, sono il Satya Yuga, che sarebbe l'età della verità e l'età dell'illuminazione spirituale, l'età dell'armonia, l'età della perfezione. Si dice che sia l'età in cui le virtù e la giustizia regnano e gli esseri umani sono considerati a un livello molto elevato, spiritualmente consapevoli, vicini, secondo la tradizione vedica, la loro natura divina. E la durata del Satya Yuga è, questa è un'età, diciamo, che è difficile da valutare, però circa 1.728.000 anni, ma questi numeri, diciamo, sono dei calcoli che lasciano un po' il tempo che trovano, sinceramente. Poi abbiamo il Treta Yuga, o l'età di Treta, che è un'età che è caratterizzata, diciamo, da un inizio di declino morale, no? È un po' come le quattro stagioni, fondamentalmente. Se ci pensiamo nella nostra vita, nel nostro mondo, tutto è ciclico, tutto si ripete fondamentalmente in modo ciclo. Questo dobbiamo prenderlo in considerazione. Il Tetra Yuga, il Treta Yuga è un declino morale rispetto al Satya Yuga. Le conoscenze sono ancora presenti, ma in virtù ridotte. E poi abbiamo il Dvapara Yuga, il Dvapara Yuga, che è un'età in cui la spiritualità continua a diminuire, si avvicina sempre di più all'ignoranza. E infine è l'età corrente, che sembrerebbe, secondo i calcoli vedici, il Kali Yuga. È l'età corrente, caratterizzata da una profonda decadenza morale, da una decadenza spirituale, sembrerebbe, secondo i calcoli vedici, che il Kali Yuga si è iniziato circa 5.000 anni fa. Però la durata del Kali Yuga è enorme, di 430.000 anni, quindi diciamo che siamo in un'epoca in cui il degrado morale, o il degrado generale, potrà tranquillamente ancora andare avanti nel tempo. Quindi il Kali Yuga è un'età di decadenza morale, un'età di violenza, di ignoranza e di declino spirituale. È considerato un periodo di grande turbolenza e confusione. E il tempo in cui si è sviluppato questo Kali Yuga coincide, da un certo punto di vista, all'abbandono di Adamo dall'Eden. Ma in Eden, secondo quello che avevo detto, diciamo, anche in una precedente live, secondo una visione di origine, e anche secondo una visione di Plotino, ma soprattutto di origine, non era un luogo fisico, ma un luogo energetico, dove l'uomo non aveva un corpo fisico. In realtà anche questo avviene nel Kali Yuga, cioè si suppone che, diciamo, man mano che si ha un degrado morale, aumenta anche, come possiamo dire, il degrado da un punto di vista spirituale, se vogliamo. Quindi il degrado continuerà ad aumentare, anche proprio da un punto di vista fisico, c'è un degrado grossolano, ma anche un degrado, diciamo, poi nelle tradizioni. Andremo a vedere, perché voglio parlare poi un po' del transumanesimo, che è un concetto, cioè un concetto, è una situazione che secondo me stiamo vivendo in questo periodo. Ma volevo un attimino completare il discorso legato al Kali Yuga. Nel Kali Yuga i Veda dicono che la conoscenza spirituale diventa meno accessibile, che le pratiche spirituali siano più difficili da seguire, proprio perché le persone sono più materialiste, sono più orientate al piacere immediato, all'avidità, all'ipocrisia. Secondo la tradizione vedica, nel Kali Yuga ci sono ancora opportunità per la crescita, per l'elevazione spirituale, ma sicuramente sono opportunità più rare, più difficili da raggiungere rispetto alle ere precedenti, e si dice che la saggezza e la virtù siano comunque in declino. Però anche in quest'epoca ci possono essere degli individui che sono comunque individui illuminati e praticanti spirituali, diciamo che cercano di mantenere una loro luce spirituale. Secondo la tradizione, una volta finito il Kali Yuga, e come ripeto noi almeno in questo corpo non avremo modo di vederlo, perché passano centinaia di miliardi di anni, secondo i calcoli, si dovrebbe tornare ciclicamente al Satya Yuga, che è l'età, diciamo invece, sarebbe l'età dell'illuminazione fondamentalmente. Ovviamente è importante notare che questi tempi, diciamo, variano da tradizione a tradizione e il Kali Yuga è iniziato con l'evento noto come la Mahabharata War, cioè la guerra nel Mahabharata, dove abbiamo Krishna che parla con Arjuna. Quindi questa guerra è tradizionalmente datata intorno al 3100 a.C., quindi saremmo circa 5000 anni fa. Tuttavia dobbiamo sottolineare che, diciamo, che queste date esatte, cronologie possono variare, quindi io andrei coi piedi di piombo. L'importante è capire che viviamo un'epoca comunque di decadenza, è iniziata già da millenni comunque, non è iniziata ieri. Salutiamo anche Eva, salutiamo anche Eli. Ora, perché tutto questo discorso? Perché, e perché anche il titolo Il mondo al contrario, no? Perché il titolo di questo libro anche, che però non voglio, di cui non voglio parlare, che è un concetto, diciamo, che comunque stiamo vedendo, le cose oramai stanno andando, non stanno andando nella giusta ottica, perché, ad esempio, in questo secolo, in Occidente, siamo stati, se ci pensiamo bene, soprattutto nell'ultimo periodo, siamo stati, come dire, abbiamo vissuto, no? Non noi personalmente, ma tutta una serie di fenomeni aberranti, no? Nella storia. Se pensiamo al nazismo, ma anche, da un certo punto di vista, alla rivoluzione bolshevica, anche al liberal capitalismo, no? Due guerre mondiali, e oggi stiamo vivendo la terza guerra mondiale, perché, di fatto, quella che stiamo vivendo oggi è la terza guerra mondiale, che non si sta ancora sviluppando, diciamo, con armi nucleari, ma, di fatto, diciamo, sicuramente potremmo essere al preludio di una terza guerra, cioè, la terza guerra è già iniziata, ed è, ovviamente, per ora, fortunatamente, è rimasta, diciamo, è rimasta bloccata le armi tradizionali, ma non è detto che possa passare ad armi di distruzione di massa, che probabilmente porterebbero, diciamo, a una distruzione di questa umanità, che comunque merita, fondamentalmente, di essere distrutta, perché, di fatto, ce lo meritiamo, ma la guerra mondiale, oramai, è tra due blocchi, fondamentalmente, quel blocco, che, diciamo, occidentale, o pseudo-occidentale, è un altro blocco, che è quello, tutto sommato, dei paesi emergenti, la Russia, la Cina, il Brasile, ma anche il Sudafrica, no? Quello che viene chiamato come BRICS, e poi tutto l'Islam, salutiamo Tug, quindi abbiamo questi due blocchi, che sono necessariamente contrapposti, e comunque, diciamo, lo scontro è già avvenuto, è già da un po' che è avvenuto. Allora, ci troviamo in una, come possiamo dire, in un'epoca che possiamo chiamare transumanesimo, no? Il transumanesimo, che cos'è? È un movimento, diciamo, filosofico, culturale, ma soprattutto esperienziale, che promuove, diciamo, l'uso delle tecnologie avanzate, e oggi anche questo lo stiamo sperimentando, per trasformare l'esperienza umana, e da un certo punto di vista, migliorare, no? Le capacità cognitive, fisiche, psicologiche, ma soprattutto, per, come dire, controllare meglio l'essere umano. L'obiettivo del transumanesimo è, diciamo, superare le limitazioni biologiche, no? Dell'essere umano, attraverso, tutto sommato, l'applicazione di tecnologie, come l'intelligenza artificiale, la biotecnologia, la nanotecnologia, la robotica, no? Pensate ad esempio Elon Musk, che ha messo un microchip nella testa di un maiale, per renderlo più intelligente. non so se poi questo esperimento, diciamo, se questo esperimento ha funzionato o non ha funzionato. Questo dobbiamo vederlo, dobbiamo capirlo, io questo non lo so, i transumanisti credono che l'essere umano debba raggiungere uno stato di miglioramento e potenziamento, diciamo, attraverso l'uso delle tecnologie e questo, diciamo, potrebbe includere, ad esempio, l'estensione della vita umana attraverso la rigenerazione di tessuti, impianti cibernetici per migliorare le facoltà fisico-cognitive, oppure addirittura uno degli obiettivi del transumanesimo è quello di, se vogliamo, come possiamo dire, trasferire la mente umana in un substrato non biologico. Ecco, quindi questo è un po', diciamo, un po' quello che potremmo dire come, da un certo punto di vista, quello che sta avvenendo, da un certo punto di vista, con l'intelligenza artificiale. Ovviamente ci sono questioni etiche, filosofiche, che comunque non vengono neanche più di tanto prese in considerazione. E la realtà, la tendenza della realtà è proprio quella di snaturare l'essere umano ed è un fatto fondamentale, noi vogliamo snaturare l'essere umano. quindi che cosa sta avvenendo? Diciamo che il primo che ha parlato, secondo me, da un punto di vista filosofico della possibilità, anzi, della necessità di superare l'uomo nella sua intima struttura e nella visione del mondo, secondo me è stato il filosofo tedesco Nietzsche, Friedrich Nietzsche perché Nietzsche parlava proprio del superuomo, dell'oltreuomo. Nelle sue opere, ad esempio, soprattutto in Così parlò Zaratustra, parla Nietzsche di un passaggio, diciamo, dall'uomo al superuomo, no? e rivaluta, diciamo, sempre Nietzsche, l'antico culto del dio greco di Dionisio, no? Dionisio, ricordiamoci, il dio della danza, dell'ebbrezza, che esprime, diciamo, la volontà orgiastica della vita nella sua totalità, nella potenza, nella sua opera, diciamo, però, nello stesso tempo, Nietzsche, attraverso Dionisio, diciamo, bandisce, se vogliamo, i valori morali, soprattutto i valori morali che sono quelli sia del cristianesimo, ma anche del buddismo, ma anche dell'induismo, se vogliamo, diciamo, anche dell'ebraismo, di tutte le, tutte le, i percorsi spirituali, no? Secondo Nietzsche, questi, questi percorsi spirituali impoveriscono l'energia vitale dell'essere umano e riducono l'uomo schiavo, non rendendosi conto che probabilmente invece è il transumanesimo che rende l'uomo schiavo. I nuovi valori, secondo Nietzsche, diciamo, infatti Nietzsche riprende un po' l'idea del rinascimento, no? Però i nuovi valori dovrebbero essere la fierezza, la gioia, la salute, l'amore sessuale fondamentalmente, ma anche la volontà di potenza che può espletarsi anche con la guerra, diciamo, no? Quindi, secondo Nietzsche, questi valori possono essere realizzati solo superando l'uomo, no? E infatti, nell'altra opera di Nietzsche, cioè, nell'opera di Nietzsche, così parlo Zaratustra, l'uomo deve essere superato per giungere al superuomo, che poi è il concetto del transumanesimo, no? Del transumanesimo odierno, perché oggi ci troviamo nell'epoca del transumanesimo. Il transumanesimo di Nietzsche conduce alla realizzazione di un individuo di cui massimo valore è il vitalismo titanico, no? Ricordiamo che ho fatto anche un video su Nietzsche, salutiamo anche Cristina, Cristina Cri, ho fatto anche un video su Nietzsche dove stavo parlando appunto del concetto di Nietzsche, del, diciamo, di Dio è morto, no? E con esso però tutti i valori che sono comunque in qualche modo collegati alla nostra società. un altro un altro americano diciamo che possiamo vedere collegato al transumanesimo, un altro filosofo americano è il filosofo futurista Moore che ha scritto anche un libro interessante da leggere i principi dell'estropia che ritiene che lo sviluppo dell'intelligenza deve essere applicato alla tecnologia per ottenere benefici, no? Quindi i benefici di cui va la ricerca diciamo il futurista Moore sono fondamentalmente l'immortalità ma non l'immortalità dell'anima, no? Secondo i transumanisti secondo i transumanisti il mito dei transumanisti è proprio quello della diciamo dell'immortalità attraverso la tecnologia fondamentalmente attraverso attraverso la capacità di utilizzare diciamo l'intelligenza artificiale la biotecnologia l'ibernazione e la maggior parte diciamo dei transumanisti comunque non crede in una parte spirituale dell'uomo non crede in un'anima umana trascendente ma confida diciamo nelle compatibilità delle menti umani con l'hardware dei computer cioè l'evoluzione dell'essere umano sarebbe quella di trasferire la mente di un uomo le conoscenze nell'hardware tra virgolette chiamiamolo così di un computer no? L'obiettivo sarebbe quello di trasferire se vogliamo quindi proprio la coscienza umana che secondo loro è prodotto appunto del cervello fondamentalmente in un hardware in un supporto diciamo tecnologico fondamentalmente cioè i transumanisti ritengono che con l'ausilio della tecnologia si potrà realizzare l'immortalità fondamentalmente ovviamente queste idee provengono prevalentemente dal mondo anglosassone no? perché? va bene Nietzsche era tedesco però oggi tutte queste idee sono sviluppate soprattutto nel mondo anglo-americano inglese-americano dove che rappresentano poi se andiamo a vedere l'avanguardia del materialismo più feroce comunque perché se ci pensiamo soprattutto negli Stati Uniti c'è il materialismo più feroce fondamentalmente e questo diciamo da un certo punto di vista questo si ritrova anche nella mitologia greca no? quando ad esempio i titani che erano generati da Urano il cielo e da Gia la terra erano le potenze primordiali del caos quindi personificate all'epoca in figure gigantesche che vollero sfidare Zeus ricordiamo la sfida dei titani a Zeus che è l'eterna sfida io credo dell'uomo contro se stesso questa eterna sfida rappresenta la sfida della parte materiale dell'uomo contro la sua parte trascendente no? e però diciamo vennero sconfitti da Zeus perché la parte trascendente comunque ha sempre la vittoria noi vennero precipitati nel tartaro nell'inferno quindi i titani il titanismo rappresenta quindi questo atteggiamento superbo di coloro che pensano che attraverso il materialismo si possa raggiungere fondamentalmente l'immortalità ed è quello che credono anche i transumanisti contemporanei fondamentalmente anche dal punto di vista del cristianesimo esiste l'idea che lo stato dell'umanità terrestre possa essere superato ma attraverso la spiritualità come anche in altre tradizioni spirituali come ad esempio nell'induismo quindi questo è un po' il concetto di fondo allora attualmente come si sta diffondendo diciamo intanto volevo ancora concludere un attimino questa parte volevo ancora concludere un attimino questa parte tenendo conto di un qualcosa che si trova un po' in tutti i miti questa sfida alla spiritualità che è quello che poi di fatto si trova anche nella genesi fondamentalmente dove comunque dopo cioè la cacciata diciamo di Adam e Deva se vogliamo dall'Eden che secondo ad esempio origine rappresenta un passaggio ad un mondo più grossolano probabilmente in quello che viene chiamato Kali Yuga di cui parlavo prima dove i nostri progenitori diciamo vennero ricoperti da tuniche di pelle che nel simbolo se vogliamo interpretare diciamo a livello simbolico questa scrittura potrebbe rappresentare l'acquisizione di un corpo fisico grossolano quindi una profonda trasformazione dell'umanità primordiale in senso materiale cioè passare da esseri di luce a esseri corpore in senso materiale questa rappresenterebbe a livello diciamo a livello simbolico la cacciata dall'Eden e diciamo poi ovviamente alla Bibbia si può far dire un po' quello che si vuole no? perché la Bibbia può essere interpretata in modalità completamente diverse può essere diciamo interpretata in modalità completamente diverse soprattutto se andiamo a vedere quelle che sono le varie proposte della Bibbia la Bibbia nella Bibbia parla Biglino che l'interpreta la lettera parla Origene che l'interpreta invece in modo completamente diverso in modo simbolico ovviamente parlano anche comunque i testimoni di Geova che la prendono come la prendono non lo so comunque detto questo in tutti i miti c'è questa cacciata diciamo da una situazione da un'età dell'oro diciamo in cui l'essere umano passeggiava a fianco a fianco degli dèi no? questo è visto un po' in tutte le tradizioni no? ci sono tutti i testi che comunque parlano di questa mitica cacciata dell'uomo che probabilmente rappresenta un degrado un'entrata in quello che i testi vedici diciamo hanno chiamato poi Kali Yuga e che oggi si sta consolidando in quello che è il transumanesimo e il transumanesimo poi ha tutta una serie di come possiamo dire ha tutta una serie di controindicazioni se vogliamo come ad esempio la società Fluid Gender ora nulla contro la società Fluid Gender perché per carità ognuno può pensare quello che crede e la società Fluid Gender non è legata alla sessualità perché io credo che persone che siano diciamo come possiamo dire adulte e consenzienti possono fare sesso anche con le lavatrici con gli elettrodomestici con chi vogliono salutiamo anche Domitilla però dobbiamo renderci conto di questa condizione che la società Fluid Gender porta alla depersonalizzazione cioè gli esseri umani si stanno comunque depersonalizzando cioè ma io credo che il motivo sia proprio quello di controllare meglio le persone sia proprio quello di schiavizzare meglio le persone perché è evidente che se una persona non ha una sua identità perlomeno sessuale o ha un'identità fluida no? perché Fluid Gender non significa che una persona si sente uomo o si sente donna indipendentemente dal sesso perché questo ci starebbe anche ma è proprio la fluidità no? in cui si può transitare diciamo da uno stato all'altro ora se le persone che secondo me vengono indotte comunque dall'educazione soprattutto questo avviene nel mondo anglosassone che rappresenta un po' l'apoteosi se vogliamo il mondo anglosassone rappresenta un po' l'apoteosi del decadimento quindi se una persona non ha una sua identità sessuale o deve scoprire la sua identità sessuale sarà tutto concentrato su quello cioè quello diventerà il nucleo fondante della sua vita e quindi non si renderà neanche conto che potrebbe essere da un certo punto di vista schiavizzato anche molto di più fondamentalmente rispetto a quello che è perché la società fluid gender diciamo sicuramente le persone sono libere di esplorare e definire il proprio genere in modo autonomo senza dicono loro essere vincolati dagli aspettativi o dei limiti imposti dalla società quindi le identità di genere vengono considerate come uno spettro no? in cui e questo secondo me è l'assurdo no? in cui le persone possono identificarsi come maschili femminili o con entrambi oppure nell'uno o nell'altro o in una varietà di modi o di combinazioni diciamo che superano sicuramente le tradizionali categorie binarie ma portano a una confusione portano a una confusione anche come dire se tu non hai una forte identità perlomeno sul tuo genere beh quello diventerà il light motive della tua vita no? quale sarà il tuo obiettivo di vita? sarà quello di trovare se sei maschio e ogni giorno no? ogni giorno ti sveglierai e ti chiederai ma oggi mi sento maschio o mi sento femmina o mi sento nell'uno nell'altro quindi questo è un questa è una cosa interessante da prendere in considerazione perché questa società diciamo questa società fluid gender questa società fluid gender è un qualcosa che noi dobbiamo prendere comunque in considerazione si sta sviluppando e in qualche modo adesso soprattutto i ragazzi giovani hanno sono sono completamente diciamo sono completamente come dire anche un po' indotti no? da una cultura fondamentale adesso non mi ricordo ma c'era una un'attrice famosa che ha detto ma ai miei figli non li dico se sono maschi se sono femmine non li faccio giocare con le bambole o non con le bambole ma perché questa disinformazione come dice giustamente Patrizia Perotti ha prodotto diciamo soltanto dei danni vogliono rendere le persone fragili condivido anche quello che dice Tug per controllarle perché anche condivido anche quello che dice Green Apple ci sono nuove potenze che ci stanno controllando stiamo assistendo alla caduta dell'Ovest e la caduta dell'Ovest è dove c'è la società fluid gender perché guarda caso in Cina in India in Russia le società fluid gender non non sono assolutamente ammesse no? ma poi pensiamo al degrado totale no? al degrado totale al degrado totale che c'è anche proprio a livello tecnologico no? oggi in Africa stanno togliendo diciamo il cobalto per fare i motori elettrici delle auto elettriche e le batterie il litio le batterie delle auto elettriche per l'Occidente no? quindi stanno depauperando queste cose mentre in Cina e in Russia e in India mica usano le auto elettriche sì ce ne avranno una due tre così simboliche ma la maggior parte dell'opulazione c'è ancora auto a petrolio fondamentalmente gasolio quello che è benzina e invece noi entriamo in una situazione in cui stiamo depauperando no? non rendendoci conto in modo veramente mio per secondo me che l'inquinamento aumenterà sempre molto di più no? perché poi tutta questa plettora di batterie miniere dove lavorano i bambini africani esatto ma poi tutta questa se ci fosse una diffusione tutta questa massa diciamo di metalli tossici inquinanti che costituiscono le batterie ma anche parzialmente i motori elettrici delle auto che poi di fatto alla fine sono molto più inquinanti del petrolio della benzina fin tanto che non troveranno una tecnologia però per adesso questa tecnologia non c'è e tutto questo fa sì che noi siamo sempre più controllati fondamentalmente siamo sempre più diciamo siamo sempre più governati diciamo da potenze che in qualche modo ci ci controllano fondamentalmente che in qualche modo ci vogliono rendere sempre più poveri fondamentalmente perché qua interviene anche un po' la mitologia di di Max di Matrix dove l'essere umano era comunque una mucca da mungere fondamentalmente una batteria da da mungere e io credo che stiamo andando verso questa stiamo andando verso questa idea insomma quindi invece i transumanisti credono che l'essere umano debba raggiungere uno stato di miglioramento proprio attraverso il potenziamento delle tecnologie ma le tecnologie come sono usate oggi sono contro l'essere umano sono veramente contro l'essere umano soprattutto anche quello che è tutto correlato no perché al transumanesimo si unisce proprio questa società fluid gender no che sicuramente è spesso associata a movimenti no come il movimento lgbtq più come cavolo è però dove si perde no una disgregazione no dove si perde una disgregazione e si mette in atto una cultura anche dittatoriale no perché oggi tu puoi oggi crediamo di essere liberi ma io mi rendo conto che siamo la libertà di parola la libertà di espressione rispetto agli anni 90 ad esempio anche rispetto al 2000 ma anche rispetto a non tanti anni fa è diminuita drasticamente no perché basta vedere appunto quello che ha scatenato no questo libro un mondo al contrario dove per carità le idee possono essere condivise possono essere condivise ma diceva mi sembra fosse il mio concittadino Sandro Pertini diceva le tue idee possono essere diverse dalle mie ma io combatterò affinché tu possa esprimere comunque le tue idee e oggi invece siamo arrivati in un punto dove le idee non possono più essere espresse perché se tu esprimi diciamo delle idee ad esempio di disappunto o di disinformazione o di come dire di critica negativa verso ad esempio questa comunità LGBTQ BTQ P2 T T T T e beh viene subito tacciato come come dire che ne so peggio che razzista non lo so omofobo non lo so quello che è no quindi non c'è più la possibilità di esprimere se vogliamo se vogliamo le idee fuori dal coro esatto se tu fai come si dice la gallina che fa l'uovo fuori dal dal nido lì com'era lì se tu fai la gallina che fa che fa l'uovo fuori dal nido adesso mi ricordo quale è detto o se canti fuori dal coro vieni subito è un po' come l'idea dello stormo oggi avete presente gli uccelli che si muovono in stormo sono tutti assieme se c'è uno che va fuori quello viene subito scartato e oggi qua stanno veramente creando questo grazie crazy stanno veramente creando questo come dire questo stormo stanno creando questo pensiero che diventerà o è già un'egregora alla quale non ci si può distaccare a me non mi ha mai bloccato nessuno ma non ti ha mai bloccato nessuno beh è ovvio che se uno dipende dalla visibilità che uno ha perché il blocco può avvenire prova a scrivere magari dei post su facebook dove ti esprimi contro il fluid gender o ti esprimi contro il magari non ti bannano ma c'è qualcosa secondo me ti bannano pure perché queste piattaforme oramai purtroppo certo qualcosa ti fanno dire per carità non è che non ti fanno dire ma ti fanno dire poco però è comunque in funzione della visibilità più sei visibile meno puoi dire perché è ovvio che magari se una persona ha due follower magari può anche parlare ma esatto c'è molte persone vengono cosiddette shadow bannate diventano delle ombre non sei bloccato ma l'algoritmo non ti fa vedere a nessuno per cui tutto quello che tu tutto quello che tu affermi praticamente non viene diffuso fondamentalmente no e oggi purtroppo l'informazione quella tradizionale è quella diciamo l'informazione quella tradizionale è quella diciamo massificata perlomeno qua in occidente perché io credo che arriveremo a dire che forse è più liberale Putin degli occidentali cioè è paradosso no? uno dice Putin il dittatore è più come possiamo dire è più liberale del è più liberale Putin delle finte democrazie occidentali perché poi si tratta di finte democrazie occidentali dove perlomeno diciamo viene viene diciamo qua in occidente oramai se tu non sei massificato dove tu non sei massificato praticamente viene marginato fondamentalmente vieni dei social shadow bannate no? perché negli anni 90 o negli anni 2000 si credeva che attraverso i social uno potesse esprimere liberamente il proprio pensiero poi invece abbiamo visto quello che è accaduto diciamo durante il pensiero durante il periodo del siero magico durante il periodo del siero magico praticamente se tu ti opponevi o comunque scrivevi qualcosa contro il siero magico alla fine la grande V il grande V se scrivevi qualcosa contro il siero magico venivi subito bannato shadow bannato venivi subito visto come un complottista quindi c'è e poi c'è tutta questa mistificazione diciamo tutta questa mistificazione perché io credo che alcuni gruppi che probabilmente sono palesemente no? farlocchi vengono creati apposta vengono creati apposta per screditare chi dice cose diverse perché quando io sento per carità ognuno è libero di esprimere quello che vuole ma questi li mettono apposta quando ho sentito anche persone che dicono che la terra è piatta la terra è piatta e ferma ferma con una cupola sopra con dove le stelle sono delle lucine e praticamente il sole e la luna girano sono delle palline che girano e che una ci riscalda e l'altra no noi siamo dentro questa cupola quando arriva sul missile oltre alla cupola perché è una cupola di vetro ora quando raccontano queste cose e queste cose qua le fanno raccontare no? perché fanno raccontare le cose che sono palesemente farlocche che sono palesemente farlocche le fanno raccontare perché poi fanno perché poi fanno perché poi fanno diciamo di tutto un erbo un fascio no? quando tu dici qualcosa contro che ne so i fluid gender per dire sei paragonato sei paragonato diciamo al sei paragonato praticamente a questi qua che parlano della terra incapsulata con le stelle come lucette no? e quindi fanno di tutto un erbo un fascio e questo è ovvio che è un'altra strategia manipolatoria no? dove diffondono delle notizie palesemente farlocche palesemente false che però hanno per effetto alone diciamo coprono anche invece delle cose che invece senso ce l'hanno e ma è lo stesso discorso degli alieni no? del quando parlano di alieni ci distraggono esatto brava green ci distraggono con teorie di fantasia no? perché anche il mondo degli alieni no? sarebbe interessante da esplorare però danno poi credito no? a quello che dice che ha visto una cosa che ha visto l'altra palesemente farlocca e quindi alla fine anche delle cose che potrebbero avere un senso vengono screditate vengono buttate nel calderone no? per cui tutte queste cose vengono servono alla fine per bloccarci condizionarci e rovinarci quindi cerchiamo ancora di portare avanti la spiritualità io credo che la spiritualità sia poi un momento fondamentale cerchiamo di portare avanti la spiritualità perché e usciamo da questi schemi finché riusciamo io non so le giovani generazioni secondo me avranno ne vedranno delle belle o forse non le vedranno neanche perché finiranno nella matrix finiranno come dei polli di allevamento perché finiranno come dei polli di allevamento oggi siamo molto più polli di allevamento oggi di diciamo siamo più polli di allevamento oggi che vent'anni fa secondo me bene detto questo mettete un like condividete il video con i vostri amici se volete fare una donazione al canale ovviamente ben accetta